Meno fanghi abbassano i costi operativi e migliorano l'efficienza dell'impianto. Con l'uso di VTA Trioxan i fanghi si possono ridurre fino al 40% rispetto ai prodotti tradizionali basati su cloruro di ferro. Una fonte di ossigeno altamente efficace viene introdotta per migliorare le prestazioni di depurazione ed aumentare enormemente l'efficienza energetica. I vantaggi principali di VTA Trioxan sono l'eliminazione dei fosfati supportata dall'ossigeno, la neutralizzazione dei composti acidi, l'eliminazione degli odori e stabilizzazione della biocenosi, la prevenzione del rilascio di fosfati, l'inibizione della formazione di struvite e il suo utilizzo universale. Sia in aree con acqua dolce che in impianti di depurazione molto inquinati, VTA Trioxan offre una soluzione universale per tutti i tipi di acque reflue. Processi di depurazione assistiti dall'ossigeno con VTA Trioxan, ottimizzazione delle performance, protezione dell'ambiente. VTA Trioxan VTA Trioxan VTA Trioxan